I prezzi! Antone! L'Urgo! Con mister Lucarelli oggi un buon punto guadagnato. Sì, direi di sì, come si era messa la partita, nonostante che al primo tempo avessimo creato occasioni clamorose, però questo ormai ce lo diciamo tutte le settimane. Abbiamo creato delle occasioni clamorose che ci potevano portare in vantaggio, ci potevano fare il secondo tempo in una maniera più consona le nostre caratteristiche di ripartenza, di velocisti davanti, invece purtroppo siamo andati sotto su una disattenzione, su una risalita, su una dormita della difesa, su una risalita e si è complicato tutto, ancora di più, di una partita che per noi sapevamo del valore dell'avversario e quindi sapevamo già che fosse complicata. Alla luce, alla fine di tutto, direi che è un punto che mi va bene, perché, ripeto, dopo due vittorie di fila nei derby importanti che ci avevano visto spendere tanto a livello anche psicologico, questa era la peggio squadra che ci potesse capitare e oggi l'ha dimostrato. Soprattutto un secondo tempo in cui il Pontederra era riuscito a mettere in difficoltà la Pistoiese e davanti a qualche problema si sente magari un po' di più la mancanza di un attaccante come Romeo, per quanto siamo tutti titolari, come hai sempre ribadito. E ribadisco, perché avete visto anche le scelte di oggi avvicinando il portiere, però è chiaro che non posso stare qui a dirmi che è mancato Romeo, perché sarà incoerente con quello che ho sempre detto in precedenza, però è chiaro che ha delle caratteristiche caratteriali, fisiche, tecniche, che in Rosa non ha nessun altro, perché gli altri sono tutti rapidi, sono tutti anche fisicamente diversi ed è chiaro che è un gioco, è una situazione diversa rispetto a quando c'è Romeo. Siamo tutti titolari e lo hai dimostrato quest'oggi anche con il portiere, un cambio tra i pali, perché la scelta di Olzac? Perché studiando il Pontederra, soprattutto con Grassi e Bartolomei, ma un po' tutti, è una squadra che ha fatto tantissimi gol e colpito tanti legni su tiri da 30 metri, siccome in passato avevo visto pazzagli magari un po' incerto su questi tiri da lontano, mi sembrava Olzac il più indicato e anche lì è stata una scelta tattica, perché direi che Olzac oggi, soprattutto sui tiri da lontano, non gli è mai scappata una palla, ha sempre fatto le cose, nonostante la giovane età, mi è sempre sembrato sicuro nelle sue cose e quindi alla fine, diciamo, come ho detto ieri, voi le chiamate sorprese, secondo me sono solo scelte tattiche dovute alle caratteristiche dell'avversario. Avevi chiamato a raccolta il pubblico del Melani, oggi sulle 2000 persone, magari un risultato abbastanza buono, in ogni caso si prepara la partita con l'Aquila, poi arriva però la vera partita, magari il vero e proprio derby per Cristiano Lucarelli. No, per me sono tutti i derby, perché comunque io voglio vincere contro tutti, quindi non è che sto a guardare con chi si gioca, io vorrei la Pistoiese vincesse tutte le domeniche, però è chiaro, è una partita che arriverà tra due settimane, noi domenica andiamo a affrontare un'altra bella gatta da pelare, perché oggi l'Aquila ha fatto la quarta vittoria consecutiva, e quindi vuol dire che è una squadra che è in salute e è una squadra che andrà affrontata con la testa giusta, perché se no si rischia veramente di prendere delle imbarcate come purtroppo ci è spesso successo in passato.